benvenuti a nome di WeBank io sono Alan Vincenzo Gendusa e vi presento il nostro appuntamento periodico che facciamo con certificati e derivati e vuol dire Pierpaolo Scandurra eccolo qua ciao Pierpaolo. Ciao Alan buongiorno a tutti. Allora Pierpaolo perché dovrebbero vedere questa puntata? Beh siamo sul sul finire dell'anno ormai stiamo tirando un po' le somme eh di quello che è stato un anno particolarmente volatile eh ma ci sono ancora diverse opportunità sul mercato a partire da certificati che andranno in rilevazione fra entro l'anno quindi ancora fra qualche giorno ma ci sono anche tante altre soluzioni interessanti da guardare ad esempio anche come utilizzare determinati certificati per rimettere in piedi posizioni eh in perdita ad esempio su valute emergenti quindi faremo un passaggio su un confronto tra un bond e un certificato eh vedremo ancora come è possibile valutare dei certificati sulla base di un rating interno del CEDLAB e quindi spiegheremo come leggere alcune dinamiche e poi c'è l'inizio delle votazioni degli Italian Certificate Awards proprio eh oggi partono le votazioni come tutti gli anni cercheremo di premiare i migliori certificati ed emittenti. Come sempre interessantissimi webinar di certificati e derivati con Pierpaolo Scandurra. Vi faccio vedere i recapiti. Se volete contattare Banco BPM e diventare i nostri clienti eh contattatemi al tre quattro sette due otto zero tre zero cinque sei anche tramite WhatsApp oppure alanvincenzo.gendusa chiocciolapromotori.bancobpm.it qui sotto vedete un codice promotore pf cinquantadue centodiciotto e un codice fondamentale che dovete inserire all'interno dell'adesione online quando andate sul sito webank.it e cliccate apri conto per voi due vantaggi fondamentali il primo avere un referente diretto all'interno della banca in questo caso io che faccio parte del trading team di webank è un profilo commissionale eh ad hoc tra l'altro con Pierpaolo Scandurra abbiamo un pacchetto di promozioni anche del CEDLAB veramente molto molto interessanti quindi vi invito assolutamente a contattarmi. Bene potete prendere visione di questo webinar cliccando sul eh link che trovate in descrizione e vi ricordo come sempre di andare sul sito webank.it nella sezione eventi e corsi e registrarvi i nostri numerosi webinar gratuiti. Buona visione con certificati e derivati e per Paolo Scandurra.